Cari amici flamenchi, oggi come potete notare non siamo a scuola di danza, niente lezioni, niente spettacoli per tutti noi che siamo abituati a danzare sempre tutti i giorni. Però non ci demotiviamo, anche se oggi non abbiamo le scarpe da flamenco ma solo le pantofole, non ci fermiamo mai. Allora vi propongo, hashtag flamenco mi cura, perché il flamenco è la cura migliore a tutti i mali del corpo e della mente. Balliamo, facciamo un brevissimo video di due compass del palo che preferite e lo condividiamo con tutti gli altri flamenchi, allievi, ballerini, insegnanti, musicisti, tutti quanti. Balliamo flamenco a casa, mentre siamo costretti a stare qui, divertiamoci e condividiamo questo momento. Un bacio a tutti!